12. E simbolica Cerchio K attraverso Marco a cura di VB Guida filosofica L'Apocalisse, come a voi è giunta nelle immagini e nelle parole che la compongono, è il risultato di una illuminazione profetica ricevuta da un veggente e tradotta in simboli. Molte immagini sono abnormi e paradossali, prodotte dalla paura e dal timore di essere piuttosto meritevoli di un grande castigo divino. Quel che conta di più per voi è lo spirito che la anima e il messaggio che da essa deriva. La distruzione del male e l'avvento del bene come unica alternativa per la nuova era, nella quale il dualismo non serve più per evolvere. Ciò dopo la variazione dimensionale che indubbiamente avverrà attraverso una selezione rigorosissima e con il contributo di tutte le forze naturali del pianeta ancora intese come bene e come male. Il superamento del dualismo avverrà necessariamente attraverso la sofferenza e il sacrificio di molti. In ultima analisi, l'Apocalisse è l'abbattimento di tutte le frontiere che separano l'un l'altro e spesso separano voi da voi stessi. È la distruzione dei valori temporali operanti nel vostro mondo, di quelli derivanti dalle istituzioni che detengono il potere e schiavizzano i più deboli. L'Apocalisse è il salto di qualità dell'uomo per il futuro. Le allegorie di cui essa è piena hanno un'importanza molto relativa. Preoccupatevi sempre della essenzialità e del significato informatore.